Ciao ragazzi, Ivano a Arrivillizio Monza, sono sempre qua nel nostro spazio dedicato all'usato, usato che è in continuo movimento, in Arrivillizio Monza le moto entrano e escono molto rapidamente, vi dico anche qualche novità, insomma in arrivo a breve una Street Bob 2014, 60.000 km, tutta club style veramente figa, ho una 1200T in arrivo e poi guardate l'intorno, ci sono parecchie moto nel nostro spazio dedicato, questa la vedete presto, la vedrete presto pubblicata, questa è stata di Clyde Bianco Perra, bellissima, arriverà a breve anche un'altra Rod King Classic, motocicletta fuori produzione, tutti in arrivo quindi sempre sempre in frubillazione, sempre sempre come inizio, sempre sempre l'ha inquadrato Rod King, uno, uno, numeri uno. Vi aspetto nel nostro salone, vi aspetto nel nostro showroom, tenete d'occhio lo shop online, tenete d'occhio l'abbigliamento, gli accessori, siamo sempre gasati, siamo sempre sul pezzo. A presto, Ivano a Arrivillizio Monza, ciao a tutti, grazie.